Grazie, professore Davis. Io mi sono sempre domandato che cosa sarebbe successo se Murat non avesse rotto il trattato che lo legava all'Austria. Dunque noi adesso proseguiamo con la relazione del professore Pesco Solido, una società immobile, sviluppo preunitario e questione meridionale. Grazie Presidente, ringrazio anch'io gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di tenere questa relazione in questo convegno. L'immagine di una economia e di una società meridionale immobile nei decenni preunitari è stata da tempo sensibilmente rivista dalla storiografia più accreditata. Essa era stata costruita sin dai primi anni di vita unitaria dalla propaganda politica e dalla storiografia geografica risorgimentale, tendente ad esaltare le realizzazioni dello Stato unitario anche attraverso una minimizzazione dei processi di cambiamento e di sviluppo avvenuti nei decenni precedenti l'Unità. Successivamente era stata ribadita e consolidata sulla scorta di una non del tutto corretta lettura delle prime inchieste del meridionalismo classico che negli anni 70 dell'Ottocento ritrassero una condizione di estrema precarietà economica e sociale dell'area latifondistica delle campagne meridionali che costituiva evidentemente il nocciolo duro della questione meridionale di allora, ma che certamente non esauriva l'immagine complessiva del mezzogiorno che i meridionalisti diedero e che comunque escludeva che tutto il mezzogiorno preunitario fosse rimasto assolutamente immobile. Agli inizi degli anni 70 del 900 cominciarono ad apparire studi che rovesciarono repentinamente e radicalmente lo schema immobilista, con intenti però chiaramente svalutativi e denigratori della politica dello Stato unitario, che avrebbe saccheggiato le ricchezze del mezzogiorno borbonico interrompendo uno sviluppo capitalistico-industriale ormai avviato e riducendo la popolazione del Sud alla miseria e alle migrazioni. A partire dalla seconda metà degli anni 70, la rappresentazione immobilista cominciò ad essere invece rivista alla luce di numerosi studi scevri da qualunque intento di strumentalizzazione politico-ideologica e volti ad approfondire con rigore scientifico le dinamiche economiche, sociali, territoriali, istituzionali del mezzogiorno preunitario e ad articolarle a livello regionale e subregionale con uno sforzo che produsse sicuramente una conoscenza migliore di tutta una serie di realtà a lungo trascurate o peggio oscurate la cui messa in luce contribuiva sicuramente a meglio intendere non solo la storia economica e sociale del mezzogiorno preunitario ma anche al di là a volte degli stessi intendimenti degli autori le origini e i termini della questione meridionale divenuta componente pressoché strutturale della vita dello Stato unitario. I risultati più importanti di questi studi rinvio poi per le citazioni al testo scritto furono dunque un richiamo di attenzione sulla rottura operatasi sin dalla metà del Settecento del circolo vizioso della stagnazione di popolazione, consumi, prezzi, produzione e redditi che perdurava ormai dalla prima metà del Seicento e l'individuazione di precise dinamiche di sviluppo produttivo e di trasformazione sociale che rendevano praticamente superato lo schema immobilista quale chiave di lettura della storia economica e sociale del mezzogiorno preunitario. In particolare furono individuati modi e tempi di una crescita produttiva dell'agricoltura meridionale la cui consistenza era quantificata oltre che da numerosi e proficui approfondimenti su scala regionale anche dal fatto che, considerati flussi di importazione ed esportazione di derrate alimentari esserà stata quantomeno tale da consentire un aumento della popolazione meridionale dai 6 milioni di individui del 1771 agli oltre 7 milioni 150 mila del 1801 e ai 9,5 milioni del 1861 quindi con un incremento complessivo in 90 anni del 63% Una serie di originali ricerche mise poi in luce come non solo nella cerelicoltura direttamente interessata al soddisfacimento del fabbisogno alimentare primario della crescente popolazione ma anche in altri importanti settori come quello olivicolo, vittivinicolo, agrumicolo e gelsibachicolo che producevano sempre più per i mercati esteri l'aumento produttivo che avrebbe raggiunto i suoi vertici ottocenteschi negli anni 80 del XIX secolo era iniziato già nel periodo preunitario Fu nel contempo documentata con una serie di studi su numerose realtà urbane e rurali un'ascesa di lungo periodo dei prezzi, soprattutto dei cereali e di altri prodotti alimentari Essa garantì un collegato incremento dei redditi la cui ripartizione tra i fattori produttivi influenzata dalla perdita di potere contrattuale della forza lavoro dovuta al ricordato aumento della pressione demografica fu limitata a fasce abbastanza ristrette della popolazione meridionale L'aumento della produzione e dei redditi, secondo i richiamati studi era stato peraltro accompagnato da un esteso cambiamento delle forme giuridiche di possesso della terra e in cambiamenti più contenuti della distribuzione della proprietà fondiaria e dei rapporti di produzione Quanto al mutamento delle forme giuridiche del possesso fondiario il Mezzogiorno continentale e la Sicilia ne erano stati teatro soprattutto nella prima metà dell'Ottocento in misura più estesa e significativa di qualunque altra parte d'Italia Da prima con la liquidazione settecentesca del patrimonio di enti ecclesiastici soppressi poi soprattutto nell'Ottocento con l'abolizione del feudalesimo e la legislazione versiva delle soggiogazioni della proprietà ecclesiastica e nobiliare e dei diritti collettivi delle popolazioni contadine sui terreni demaniali ed ex feudali si era formata una massa enorme di proprietà borghese Tale processo non aveva però trovato una proporzionata corrispondenza nei cambiamenti della distribuzione della proprietà fondiaria e ciò segnava un primo chiaro limite alla natura e alla portata delle dinamiche sociali e anche produttive registrate nelle campagne meridionali prima dell'unità Emergeva infatti chiaramente come, in base alla legge versiva del 1806 il grande baronaggio meridionale fosse riuscito a salvare la maggior parte degli antichi latifondi feudali cedendone circa un terzo ai contadini titolari degli antichi diritti d'uso e mantenendo in tal modo il possesso di un'estensione ancora enorme di terreni ex feudali ora detenuti in proprietà piena e libera Si era inoltre fatto avanti un nuovo ceto di grandi proprietari borghesi formato da grandi affittuari, massari e gabbelloti e da una parte del ceto civile cittadino che avevano acquistato una quota consistente sia del patrimonio ecclesiastico espropriato sia dei terreni delle famiglie nobili andate in dissesto o estinte dalla fine del Settecento in poi Infine, parte dei contadini che aveva avuto accesso a qualche quota di terreno demaniale si era trovata spesso costretta a rivenderla a grandi proprietari In definitiva, la crescita di una media e piccola proprietà coltivatrice era rimasta abbastanza ridotta e la tipica polarizzazione della proprietà fondiaria nel mezzogiorno in età moderna tra le di fondo ex feudale e borghese da un lato e proprietà contadina polverizzata dall'altro non era stata significamente scossa e tanto meno scardinata Il quadro dei rapporti di lavoro era cambiato significativamente per lo più con un peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei contadini La figura del grande affettuario di latifondi emergeva ancora come perno intorno al quale ruotava la vita economica di gran parte della società rurale dell'area latifondistica e per quanto rilevanti fossero gli avanzamenti del medio possesso nelle aree delle culture specializzate il quadro complessivo della tipologia dei rapporti di produzione nelle campagne meridionali non risultava in fin dei conti radicalmente alterato mentre i contadini si ritrovavano senza l'antico paracadute degli usi civici Oltre a ciò restava confermato che le masse rurali avevano subito, lungo l'arto della prima metà dell'Ottocento l'estesa usurpazione di terre demaniali da parte di nuovi, intraprendenti e rapaci proprietari borghesi senza che il governo borbonico facesse alcunché di incisivo per rimediare al problema Fu questa l'origine di quella frattura tra galantuomini e contadini che non è stata ridimensionata nella sua portata sociale e politica da nessuna revisione storiografica tesa alla valorizzazione degli effetti dei processi di sviluppo economico Al contrario, essa fu accentuata proprio dai processi di evoluzione in senso capitalistico borghese dell'economia e della società meridionale fino a darci una importante spiegazione sia della perdita di consenso della dinastia borbonica prima dell'unità sia dell'insorgere del brigantaggio all'indomani del 1861 Un brigantaggio da vedere come frutto anzitutto della povertà, della miseria e di un odio covato a lungo nel corso della prima metà dell'Ottocento dai contadini contro il ceto civile e i grandi possidenti ed esploso nel momento in cui nel passaggio di regime il controllo dell'ordine pubblico sembrò venir meno L'insofferenza per il carico fiscale piemontese e le nostalgie borboniche rafforzarono dunque dopo le motivazioni di una ribellione le cui cause prime erano ben radicate nella politica borbonica e nella storia sociale del regno prima dell'unità Anche l'estendersi dei sistemi di conduzione capitalistica nelle aree costiere legati alle colture specializzate destinate al mercato interno e all'esportazione nonché nelle aree campane dell'orticoltura in funzione del mercato della capitale sicuramente rilevante, non fu però tale da sconvolgere i preesistenti rapporti di forza tra i fondamentali sistemi agrari e gli assetti sociali ad essi corrispondenti il rapporto nell'insieme, il rapporto tra produzione lorda vendibile delle colture arboree e quelle delle colture erbacee fino al 1861 rimase nettamente favorevole alle seconde cioè a quelle erbacee che erano praticate nel latifondo a grano e pascolo mediante tutte le figure di operatori ad esso collegate proprietari latifondisti, affittuari speculatori, ammassari e gabbelloti, lavoratori senza terra o proprietari non autosufficienti, terraticanti, braccianti, contadini tale rapporto fra colture erbacee e colture arboree sarebbe giunto invece a roversciarsi dopo l'unità nel corso degli anni 80 dell'800 nel 1861 la superficie destinata alle colture legnose specializzate era pari nel mezzogiorno al 7% del totale della superficie agraria e forestale complessiva contro il 44,6% dei seminativi il 15% dei boschi il 25,7% dei prati pascoli permanenti il fatto che nel nord d'Italia la superficie coperta da boschi fosse pari al 21,6% del totale contro il 15% del totale del mezzogiorno suona come un'ulteriore indicazione indiretta di quale fosse la natura dell'aumento produttivo della cerealicoltura del sud molto basato sulla semplice estensione dei colti in seguita a disboscamenti e molto poco sulle bonifiche o su una trasformazione delle rotazioni culturali la maggiore evoluzione di queste ultime nella prima metà dell'800 era stata prodotta dalla diffusione del mais e della patata ma ciò era avvenuto soprattutto nell'Italia centro-settentrionale per il frumento le rese unitarie erano rimaste sostanzialmente stazionarie anche nel nord e una moltiplicazione del seme per 6 o per 8 nel 1861 era considerata molto favorevole non solo nel latifondo ma anche nelle aziende della cerealicoltura asciutta centro-settentrionale incluse quelle della pianura padana la pratica delle foraggere era stabile solo nella grande azienda capitalistica delle zone irrigue della bassa lombarda quasi ovunque nel sud in particolare la loro comparsa era evento eccezionale di data recente prossima agli anni cinquanta è accolta dai coloni e contadini con molta diffidenza quando non con aperta resistenza questi limiti quantitativi e qualitativi di crescita produttiva e di evoluzione dei rapporti sociali nelle campagne non possono indurci comunque a dimenticare che l'agricoltura e la società rurale meridionale non erano rimaste immobili e che le attività primarie erano la componente dell'economia meridionale che di più aveva stimolato un certo inalzamento del livello della commercializzazione interna e internazionale dei suoi rapporti e lo sviluppo di una rete di centri urbani che in alcune regioni come la Campania, la Puglia, la Sicilia puntualmente illustrato negli studi degli anni ottanta precedentemente richiamati era avvenuta e bisogna anche aggiungere che se l'evoluzione della struttura sociale del mezzogiorno conteneva ancora molti elementi di arretratezza rispetto a quella del centro nord in termini di prodotto pro capite il divario si manteneva entro dimensioni molto contenute se infatti abbandoniamo la categoria dell'immobilismo e ci rifacciamo a quella di arretratezza di arretratezza in termini moderni si deve parlare per il mezzogiorno d'Italia al momento dell'unità soprattutto a causa della scarsa consistenza dell'apparato industriale della pochezza del capitale fisso sociale, della fragilità ed eterogeneità del sistema creditizio del basso sviluppo dei livelli di alfabetizzazione ma non di una forte differenza di reddito pro capite agricolo in appunto in agricoltura per quel che riguarda l'industria nel mezzogiorno l'entità dei valori produttivi degli interessi economici nonché la quota di popolazione coinvolta nelle attività secondarie erano venute crescendo nella prima metà dell'ottocento non meno di quanto era avvenuto nel resto della penisola qua e là erano sorti anche nel mezzogiorno manifatture per lo più tessili alimentari ma anche siderurgiche meccaniche e cartarie con discreta organizzazione finanziaria e dotazione di macchinari accanto a un certo numero di antichi nuclei produttivi di ceramiche e utensili vari la maggior parte dei quali conservava però organizzazione e dimensione di tipo artigianale sul finire del settecento erano stati frutti frutto quasi esclusivo della sovvenzione pubblica poi effetto indotto delle guerre del blocco continentale delle politiche economiche francesi durante il periodo napoleonico infine negli anni quaranta e cinquanta dell'ottocento erano stati realizzati da imprenditori locali più maturi e anche stranieri su questo Davis scrisse anni fa un libro che resta pienamente valido a mio modo di vedere in ogni caso ad eccezione che nel Piemonte Cavoriano essi erano stati sempre al riparo di solide barriere doganali tuttavia al momento dell'unità in nessuna area della penisola e tantomeno nel mezzogiorno tali nuclei costituivano un sistema industriale autopropulsivo paragonabile a quanto era stato realizzato in Inghilterra e nelle aree industrializzate d'Europa essi erano immersi nelle fitte maglie della rete dei lavoranti a domicilio che in parte produceva per sé e per la propria famiglia gli indumenti personali indispensabili in parte lavorava su commissione di mercanti imprenditori che distribuivano la materia prima e ritiravano il prodotto finito la pluriattività della manodopera rurale era ancora elevata il processo di separazione delle attività industriali da quelle agricole i livelli di specializzazione produttiva erano ancora molto arretrati gli operai nel senso classico del termine erano pochi i dati sui censimenti da questo punto di vista ingannano perché nella voce addetti all'industria essi conteggiano senza alcuna distinzione tutti gli addetti alle attività secondarie quindi lavoratori salariati a tempo pieno e parziale artigiani e manuali di ogni genere senza linee di demarcazione precise e stabili per i lavoratori stagionali molto più vicina al vero la relazione dell'inchiesta sulle attività industriali del 1874 che faceva ascendere a poco meno di 400.000 il totale degli addetti dell'industria italiana in senso stretto e il grosso di essi lavorava nel nord in definitiva il notevole e apprezzabilissimo sforzo di numerose indagini effettuate anche a livello aziendale se da un lato ha cancellato anche per l'industria lo stereotipo di un assoluto immobilismo dall'altro non ha potuto mutare il significato inequivocabile di un confronto tra gli apparati industriali dell'Italia non solo del mezzogiorno e quelli dei paesi industrializzati dell'epoca nel 1861 il rapporto tra la produzione siderurgica inglese e quella italiana era divenuto di circa 120 a 1 dopo che alla fine del settecento era solo di 3 a 1 in quella cotoniera il rapporto era di 67 a 1 all'indomani dell'unità la composizione dei consumi energetici italiani era ancora quasi interamente basata sulla legna da ardere e sulla forza idrica mentre quella dei paesi nord e centro europei era ormai spostata prevalentemente sul carbone il costo di una tonnellata di carbone al centro della Sicilia era pari otto volte a quello a bocca di miniera in Inghilterra c'era un ritardo rispetto all'Europa che rendeva scarsamente rilevante nel caso dell'industria il divario tra nord e sud dell'Italia ed evidenziava un problema di mancata industrializzazione nell'intera penisola e non solo nel mezzogiorno i ritardi che sin dall'unità ponevano il sud in una condizione di inferiorità netta rispetto al nord e in particolare rispetto a Piemonte, Liguria, Lombardia erano invece nel campo delle infrastrutture e del capitale fisso sociale e dello sviluppo civile in genere oltre che nel sistema creditizio dagli anni quaranta dell'ottocento era divenuto in effetti oltremodo evidente che la modernizzazione dei trasporti terrestri era la via maestra per creare mercati e la premessa indispensabile a una qualsiasi forma di industrializzazione tuttavia l'Italia centro-meridionale nel 1861 aveva un sistema di viabilità interna che ancora rendeva preferibile andare da Civitavecchia ad Ancona e da Bari a Napoli facendo il periplo della penisola via mare piuttosto che affrontando la via terrestre La spinta alle costruzioni di vie di comunicazione terrestre anche nel sud della penisola italiana evidenziata da numerosi studi era stata non solo più debole di quella estera ma per di più tutta interna ai diversi ambiti regionali senza significativi collegamenti interstatuali e longitudinali In ogni caso desta sempre stupore il numero dei comuni meridionali non raggiunti da strade carrabili alla vigilia dell'unità 280 su 330 in Sicilia, 1600 su 1800 circa nella parte continentale L'aspetto più preoccupante di tutta la problematica relativa alle vie di comunicazione terrestri del mezzogiorno stava comunque nell'inferiorità accumulata nell'ambito delle costruzioni ferroviarie I tentativi di ridimensionare il ruolo delle ferrovie nello sviluppo economico italiano tentativo reiteratamente tentato anche di recente Mi sono parsi sempre scarsamente persuasivi e nel caso del mezzogiorno il fatto che la Campania nel 1861 avesse circa il 5% della rete ferroviaria nazionale non riduce minimamente la gravità del fatto che tutte le altre regioni del regno delle due Sicilie ne fossero completamente prive e aggrava le responsabilità delle scelte borboniche in questa materia Sarà stato un caso ma la prima base industriale italiana fu quella che si formò a partire dagli anni 80 dell'800 nelle tre regioni che già nel 1861 erano maggiormente dotate di ferrovie Piemonte, Liguria, Lombardia che erano poi le stesse che sempre nel 1861 avevano solo, tra virgolette, il 50-54% di analfabeti contro l'87% del mezzogiorno continentale, l'89% della Sicilia ma, attenzione, il 78% dell'Emilia Romagna, il 74% della Toscana, l'83-84% delle Marche e dell'Umbria Regioni tutte civilissime Sono questi i parametri che inducono a ritenere il divario Nord-Sud al momento dell'unità di una consistenza superiore a quella denunciata dalle differenze nel reddito pro capite che alcune stime più recenti valutano addirittura pari a zero Nel 1998, in seguito ad una verifica dei dati contenuti nelle fonti utilizzate dall'annuario statistico del 1864 A sua volta usato da Richard Eckhouse per le sue stime ritenni che il livello da questi segnalato del 25% di dislivello nella produzione nella produzione pro capite tra Nord e Sud fosse eccessivo e che la differenza di reddito non potesse in realtà superare il 10-15% In particolare controllai che nell'annuario del 1864 i dati erano ripresi da De Augustinis dove non erano presi tutti però per esempio per il mezzogiorno veriva trascurato nel patrimonio del bestiame assolutamente la produzione bufale il patrimonio bufalino che nell'annuario del corrente del maestri non erano ripresi Caus ha preso i dati dell'annuario del corrente del maestri e sopra quello ha fatto Poi c'era tutta un'altra serie di produzioni tipicamente meridionali non considerati quindi a mio modo di vedere il 25% di differenza che lui dava poteva essere abbondantemente ridotto Non credo però che si possa arrivare a sostenere un'assoluta parità di reddito pro capite tra nord e sud d'Italia almeno al momento dell'unità almeno per me ci sono sufficienti ragioni adesso non mi dilungo e illustrare quali per dire che Malanima, Daniele, Fenualtea, questi qui che di recente hanno dopo aver detto che le ferrovie non servono allo sviluppo economico adesso ho detto pure quest'altra cosa ma insomma questo è un problema avevo detto comunque che non volevo citare nulla Questa era compatibile con la realtà di fatto della retratessa industriale dell'intera penisola e non del solo mezzogiorno e con la capacità dell'agricoltura meridionale di mantenere livelli di produzione globale e per unità di superficie abbastanza vicini e in alcuni settori superiori a quella settentrionale in definitiva il divario nord-sud intorno al 1861 non era generalizzato e profondo come le visioni dualiste più radicali assumono ma sicuramente era esistente esso era sensibilmente diversificato a seconda dei vari indicatori del livello della vita economica e dello sviluppo civile da un lato e degli apparati produttivi e del reddito pro capite dall'altro va peraltro ribadito che le contenute dimensioni del divario di produzione e reddito pro capite tra nord e sud nel 1861 cioè quelle che io stimo al 10-15% non vanno collegate a un particolare sviluppo del mezzogiorno preunitario vagheggiato dalla letteratura neoborbonica che tutti i giorni ci racconta di un ammirabile sviluppo capitalistico del mezzogiorno lo sviluppo fondamentale accertato non era andato oltre il limite di una prima episodica e frammentaria modernizzazione e non solo non aveva messo in discussione il modello di sviluppo agricolturista dominante nel mezzogiorno ma, ed era la cosa più importante, non aveva neppure creato i presupposti per farlo data la netta inferiorità accusata in termini di sviluppo del sistema del credito, delle infrastrutture e dello sviluppo civile in genere le contenuti e dimensioni delle differenze di reddito pro capite sembrano a loro volta da ricondurre a limiti che lo stesso sviluppo economico del nord accusava in quel momento perché neppure il nord, neppure nel nord il modello agricolo commerciale era stato in una qualche misura messo in discussione e ciò diviene evidente quando si passa ai confronti internazionali del reddito pro capite cioè quando si fa a confrontare il reddito italiano con quello francese o inglese, diciamo, secondo le stime di Baroc si trova una situazione che ci dice che neppure il nord aveva messo in discussione il modello agricolo commerciale questo è il punto. Tuttavia, e attenzione, torniamo di nuovo alle politiche dei governi soprattutto in Piemonte e Liguria ma anche in Lombardia si erano cominciate a creare solide premesse della modernizzazione economica potenziando infrastrutture e servizi civili il che chiama pesantemente in causa il modo di porsi di fronte ai problemi dello sviluppo e della modernizzazione dei governi preunitari le cui diversità di comportamento non erano state irrilevanti se è vero che, pur all'interno di un modello di sviluppo agricolo commerciale Lombardia e soprattutto Liguria e Piemonte almeno in materia di infrastrutture, in particolare di rete ferroviaria ma anche di strutture creditizie e livelli di alfabetizzazione come abbiamo già visto, arrivavano all'appuntamento con l'Unità in condizioni indubbiamente migliori del resto della penisola e ciò, se non fu determinante, non fu neppure del tutto ininfluente sul fatto che proprio quelle tre regioni diedero inizi allo sviluppo industriale italiano il che diventa un parametro di giudizio fondamentale sull'operato della dinastia borbonica sulle quote di responsabilità ad essa aspettanti nelle origini della questione meridionale e sulle problematiche di sviluppo che il Mezzogiorno dovette poi affrontare all'interno di una cornice politico-istituzionale che puntava decisamente ad inserirsi nell'area economica più progredita d'Europa e del mondo nell'ambito dello Stato unitario l'economia e la società meridionale furono sottoposte a sollecitazioni enormemente più violente che in passato e che nell'immediato provocarono un malessere che si aggiunse a quello già preesistente nelle campagne a causa della povertà di fondo e delle tensioni sociali indotte dei processi di riorganizzazione capitalistica avviate sin dal periodo francese il brigantaggio ridotto semplicemente da una incredibile letteratura giornalistico-populistico divulgativa a quasi cavalleresca ribellione contro la brutalità e l'oppressione di un esercito conquistatore fu in realtà la prima e più drammatica manifestazione di quell'insieme di problemi definiti negli anni settanta dell'ottocento questione meridionale dai meridionalisti questione anche politica per la minaccia filoborbonica di cui fu per diversi anni portatrice ma questione in realtà anzi tutto sociale guerra civile di meridionali contro altri meridionali di cafoni contro galantuomini e quindi un problema di ordine pubblico che il potere costituito non potevano reprimere con tutti i mezzi ritenuti necessari e tuttavia la questione meridionale che di fatto cominciò a porsi alla classe dirigente sin dal momento dell'unità era ben lungi dall'identificarsi semplicemente e tantomeno dall'esaurirsi nel brigantaggio gli aspetti della questione meridionale che si sarebbero poi rivelati più difficili da risolvere più difficili dello stesso brigantaggio stavano altrove ed erano agitati da altri soggetti in sede che non erano le macchie dell'appennino meridionale e riguardavano le problematiche del delicatissimo inserimento dell'economia e della società meridionale nel meccanismo di sviluppo capitalistico dello Stato unitario problematiche nuove dunque che nascevano dall'intento di risolvere quelle ereditate dallo Stato borbonico e da quello di costruire una nuova economia e una nuova società a vicende politico-militari dell'annessione risolte già dal gennaio del 1861 si ebbero le proteste e le resistenze generate dall'introduzione dall'oggi al domani della tariffa liberista non fu per caso che l'unica voce contraria fosse quella del meridionale Giuseppe Polsinelli proteste vigorose si ebbero anche per le dimensioni senza precedenti del carico fiscale che venne rovesciato sul mezzogiorno e le problematiche della costruzione delle amministrazioni pubbliche meridionali e delle condizioni di vita dei contadini costituirono parte cospicua della letteratura meridionalista per tutte si può sicuramente ritenere che vi fosse una parte di fondamento nelle proteste tuttavia, stando alle problematiche più strattamente economiche e ai relativi riflessi sociali va detto che indubbiamente l'industria del mezzogiorno fu colpita più duramente da quella del nord dalla concorrenza franco-inglese e fu in alcuni settori chiaramente svantaggiata dalle scelte in materia di commesse statali va però ricordato che la storiografia recente ha ridimensionato la portata dell'impatto negativo della politica riberista sull'industria meridionale sia per la modestia stessa dell'apparato industriale meridionale sia perché la parte più vitale di esso sopravvisse non c'è dubbio invece che iniziò allora quella progressiva divaricazione tra un sud tendenzialmente sempre più agricolo e commerciale e un nord in cui vi furono forze che non abbandonarono mai le speranze di pervenire a un cambiamento della politica economica statale e dello stesso modello di sviluppo la strategia dei gruppi industriali superstiti nel sud si ridusse progressivamente alla mera difesa di singoli gruppi societari o semplici aziende all'appuntamento con la nuova congiuntura che si aprì nella storia economica e sociale italiana con gli anni ottanta il mezzogiorno arrivò con una pattuglia di imprenditori che per quanto capace di conseguire singolarmente alcuni apprezzabili risultati non era abbastanza forte finanziariamente né coese e determinata ideologicamente per avere un peso politico e strategico equivalente a quello dell'imprenditoria settentrionale per cercare di comprendere le complesse ragioni dell'atteggiamento meridionale va tenuto presente che la politica liberista assicurò all'agricoltura meridionale in tutti i suoi settori una crescita senza precedenti delle esportazioni e conseguentemente della produzione che compensò a livello sia di reddito che di occupazione almeno fino al 1887 le perdite subite sul fronte delle industrie e anche su quello della rete dei trasporti marittimi in tale crescita è da ricercare il forte radicamento nella cultura meridionale e meridionalistica anche quella che più si preoccupava delle condizioni di arretratezza e di miseria del mezzogiorno della convinzione che l'avvenire economico e sociale del sud risiedesse in uno sviluppo di tipo prevalentemente agricolo commerciale solo Nitti e peraltro il secondo Nitti si sottrasse a questa suggestione a quella crescita alcune regioni meridionali con la Sicilia in testa parteciparono come segmento forte di primo piano su scala nazionale se la produzione cerealicola migliorò di più nel nord sicuramente le colture specializzate vitivinicole, orticole e agrumarie segnarono un aumento senza precedenti in un contesto in cui le regioni meridionali fornivano l'ottanta per cento della produzione nazionale nel corso degli anni ottanta mentre nel nord si aveva un primo decisivo avvio dell'industrializzazione nel mezzogiorno le colture specializzate destinate ai mercati estero ebbero un'ulteriore straordinaria espansione per il vino mai più ripetuta in seguito fu grazie a questi risultati che il divario nel reddito netto pro capite tra nord e sud tra il 61 e il 1887 aumentò nonostante non aumentò nonostante l'inizio dell'industrializzazione settentrionale fu per queste ragioni che nel 1886 peraltro le grandi isole che ne erano del tutto prive del 1861 avevano 893 chilometri di binari il mezzogiorno continentale che ne aveva 184 nel 1861 nel 1886 ne aveva quasi 3000 il che significava che il sud nel suo insieme era passato dal 7,3% al 33,2% del totale della rete ferroviaria nazionale fu per queste ragioni che nonostante il brigantaggio la renitenza alla leva la crescita del carico fiscale il mezzogiorno e lo stesso pensiero medidionalista pur protestando per l'esistenza di due Italie si limitarono sempre ad auspicare provvedimenti a sostegno del mezzogiorno ma non ritennero mai che convenisse al mezzogiorno staccarsi dallo stato italiano e pensare a una restaurazione borbonica d'altro canto neppure il nord pensava allora minimamente di staccarsi dallo stato unitario ben consapevole del fatto che il sud grazie ai grandi investimenti effettuati in infrastrutture aveva assunto nel sistema economico nazionale il ruolo di un mercato che all'industria settentrionale non conveniva certo perdere un mercato rafforzato nelle sue possibilità di acquisto di manufatti settentrionali dai proventi delle esportazioni dei prodotti agricoli specializzati e a partire dalla metà degli anni Ottanta dalle rimesse degli emigrati è un'analisi ineccepibile questa fatta sin dai tempi dei liberisti che si è portata avanti sino ad oggi e solo con la disponibilità esclusiva del mercato meridionale garantita dalla tariffa protezionista del 1887 l'industria dell'Italia settentrionale iniziò il recupero rispetto a quelle europee più avanzate e l'Italia divenne uno dei paesi più sviluppati del mondo sia pure con una questione meridionale tuttora aperta e che non si potrebbe certo risolvere tornando a una condizione di divisione preunitaria la cui debolezza nel 1861 al nord come al sud si spera sia stata sufficientemente illustrata in queste pagine chiedo scusa per lo sforamento grazie grazie